Anche quest'anno il Comune di Castellabate attiverà il corso di autodifesa urbana al femminile che nella sua prima edizione ha riscontrato molto consenso. Al via dunque le iscrizioni e le lezioni interamente finanziate dall'assessorato alle pari opportunità che punta concretamente alla prevenzione verso fenomeni di violenza di genere anche sotto l'aspetto psicologico. Le iscrizioni al corso sono già aperte, è possibile rivolgersi all'ufficio politiche sociali in via Roma a Santa Maria. L'avvio delle lezioni è previsto per lunedì 28 ottobre dalle ore 17 alle ore 18 e 30 presso la palestra della scuola media Luigi Guercio plesso di Santa Maria per un incontro conoscitivo durante il quale si ascolteranno le esigenze delle iscritte per definire i dettagli. Sono previsti due incontri mensili per un totale di 10 lezioni a cura dell'istruttore Danilo Salvatori dell'Urban Defense System di Salerno che tratteranno svariate tematiche come l'istinto, l'equilibrio e la biomeccanica del corpo umano, la riattività delle azioni e la conoscenza dello stress. Temi questi che tengono conto dell'esigenza di unire alla preparazione tecnica sull'autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione, ad un corretto approccio psicologico e alla conoscenza della normativa che tutela l'incolumità personale. L'assessore alle pari opportunità Elisabetta Martuscelli dichiara in merito all'iniziativa. Torna a grande richiesta l'appuntamento dedicato alle donne con il secondo modulo del corso di difesa, un progetto aperto a tutte le cittadine di qualsiasi età che ha visto da subito una partecipazione attiva e interessata, un'esperienza positiva che abbiamo deciso di ripetere per fornire altre utili informazioni su un tema così sentito e tristemente attuale.